Ciao, benvenuto a questo nuovo video del video del video. Qui ti parlo del concetto di imparare proprio a gestire le emozioni che consideri negative. Ti ho già parlato molte volte di questo concetto. Sarò molto breve, nel senso che qui non c'è moltissimo da dire. È una questione di attitudine mentale, di vedere che non c'è un'emozione negativa o positiva. C'è un'emozione limitante o potenziatore. C'è un'emozione come la roba che tu non comprendi, non capisci perché la provi. Perché sei in una sequencia di disaccordo con questa energia che hai. E devi capire che cosa in realtà ti sta dicendo la mente cosciente. La mente cosciente in realtà, quando provi la tua, un po' di cuore, senti frustrato o qualsiasi cosa di questo tipo, triste. È perché in realtà ti vuoi impulsare o muovere. Ti vuoi muovere verso l'energia che ti c'è a te. C'è un po' di dire, guarda, fai una spinta, se vai avanti così non va bene. Allora, che cos'è ad esempio, usare in modo frigio, in musica, perché in modo frigio ha questa sensazione di tensione, di ribellione, proprio tutte le perrogie, come rampia proprio. È questa cosa. E la sequenza è il primo accordo della scala minore, il secondo accordo della scala maggiore e il settimo accordo della scala minore. Per fare esempio il Do, usa il Do minore, il Do iedis maggiore, secondo grado, appunto, e il settimo grado la iedis maggiore. E si intende in questa decisione che sarà produttiva. Impara a essere produttivo, a non essere vittima dell'emozione dei carnifici. Semplicemente impara ad usarla in modo produttivo, che sia nel servizio tuo e non tuo servizio a questa emozione. Ecco perché è producciatrice. L'altro principio di fare, nella maniera tonale, funzionale, in pratica, per cercare una scala triste. Il resto è melancolico, secondo, è come se ti mettesse a piangere. Usa questi accordi, appunto, una scala di domogene, c'è il Re minore al secondo grado. Fa un senso proprio di, la perché piangere il terzo grado, le dite in sceccia profonda, decadente, quasi, se bocchi, vedi cadendo, proprio, che non c'è via di stampo, che è il Re minore, è il Re minore. Se stai avendo la scala, è il Re minore. E' un senso di maniconia, non profonda, ma un po' di maniconia. Usa questo, vedrai, riuscirai a misurare questa decisione che hai. Usala, si, potenziatore, vittila e capiscila. Ciao, 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 ciao.